Ancora una volta il sindaco di Imperia, Carlo Capacci, si trova al centro della polemica, questa volta a far discutere la scelta dell'avvocato che si occupò della rescissione del contratto con la Tradeco, l'azienda pugliese che era incaricata dalla raccolta dei rifiuti nei 35 comuni del comprensorio imperiese, di cui il comune di Imperia era capofila. Il legale che ha presentato una parcella da 240.000 euro è infatti Eutimio Monaco del Foro di Roma, lo stesso che in passato si occupò di difendere all'antitrust l'azienda di telefonia di Capacci. Come se non bastasse, la sua parcella, pagata con i soldi che erano destinati alla Tradeco, è stata ora impugnata dai legali della Will, che ne hanno chiesto il pignoramento cautelativo nell'ambito della battaglia per ottenere i pagamenti ancora attesi dai lavoratori. Carlo Capacci ha respinto le critiche evidenziando che la scelta di un legale si basa su un rapporto fiduciario e che i risultati dicono che la fiducia sia stata ben riposta, considerazione indiscutibile anche se la questione etica resta.